Grazie a tutti, grazie della solidarietà e della comprensione e della vicinanza alla situazione in cui siamo qui a commemorare la dottoressa Paola Arzolini. Come rappresentante della società di motosoccorso, della quale sono il presidente, faccio le mie condoglianze a tutti i parenti qui nella dottoressa. E' doveroso, lei ha dato tanto sotto tanti aspetti, sia nelle capacità che nelle azioni e quindi mi congratulo e sono veramente contento di questa partecipazione. La dottoressa Arzolini, alla quale viene conferito questo onore, questo premio determinato e voluto dal professor Bocchetta e mi auguro di vederlo ancora per molti anni a fare questa. La sensibilità di aver scelto questo monumento caro alla città di Verona è dovuto anche il rapporto alla dottoressa Arzolini. E' una sede degna di una commemorazione per una professoressa come lei. Lei ha svolto nella vita molteplici attività, oltre che essere letterata, giornalista, di tutto e di più ha fatto. Quindi ci lascia un qualche cosa che nella nostra città viene sempre a mancare. Ci lascia un po' di cultura. E' una grave carenza che in questo periodo, in questo mondo, sentiamo sempre di più la mancanza. Quindi lei ha dato, ci lascia in eredità una cultura che dovremmo per coerenza almeno approfondire, almeno conoscere cosa ha lasciato lei. Quindi io non sono in grado adesso di parlare di più della dottoressa solo sapere, solo che so quello che ha fatto e basta, non so altro. Quindi adesso passo la parola all'Avvocato Guarienti che illustrerà meglio la figura della professoressa Arzolini. Grazie che siete venuti qui. Buongiorno. Ai primi di ottobre mi telefona Vittorio Bocchetta con il quale sono in contatto da decenni e mi dice quest'anno il premio Bocchetta lo vorrei dare a una donna. Io immediatamente gli dico Paola Azzolini. Lui mi dice sono entusiasta, l'idea è eccellente, la conosco, è una mia vicina di casa, ci incontriamo, l'ho conosciuto in occasioni culturali, è la persona più adatta a ricevere questo premio. telefono subito a Paola e Paola mi dice questa in una situazione di dolore, di sofferenza psicologica oltre che fisica, voi sapete che si era fratturata una gamba ed era rimasta a casa immobile, non poteva neanche alzarsi, neanche camminare, era ferma e lo è stata per moltissimo tempo. E' la più bella notizia che potessi ricevere. Andiamo avanti, ci avviciniamo al giorno del premio e io le dico la vado a trovare, tra l'altro lei aveva moltissimi amici che andavano a trovarla, tanto che mi dice adesso vedo quando puoi venire e mi fissa l'incontro per sabato, nella settimana precedente, alle 16.30. Io vado là, mi dà il suo curriculum vitae, curriculum non solo vitae ma anche delle cose che ha fatto nella vita, sono due pagine e le dico Paola, come facciamo a inserire in una locandina tutto quello che hai fatto? Fai una selezione. Poi stiamo lì due ore a chiacchierare con grande piacere mio, ma penso anche suo, l'ho trovata in ottima forma, era allegra, piena di idee, si parlava anche del futuro della cultura Verona e il lunedì mi manda una riduzione del curriculum, invece di due pagine erano una pagina e mezza, poi mi dice fai quello che vuoi. Io faccio una selezione delle cose secondo me più significative, gliela mando, la locandina è piaciuta, poi mi dice mi sono dimenticata alcune cose che abbiamo aggiunto. nel pomeriggio del martedì, anzi la sera del martedì, verso le 7, le mando la locandina definitiva che lei aveva approvato perché aveva inserito quello che secondo lei mancava. Ho saputo dalla mia segretaria che alle 21.20 ha aperto il computer e ha visto la locandina definitiva. So che è deceduta attorno alle 23. Credo che questo premio sia stata per lei, me l'ha detto questo in maniera molto chiara, me l'ha ripetuto anche nei giorni che hanno preceduto il suo trapasso, ma è stata la più bella gioia di questo periodo così duro, così difficile, così faticoso. Si stava riprendendo, cominciava a camminare, era riuscita anche ad arrivare all'ascensore, aveva il problema degli scalini, aiutata da una bravissima badante. Però, insomma, noi siamo così contenti, in fondo, di aver rappresentato inconsciamente, senza ovviamente nessun tipo di prevedibilità, una gioia a questa grande donna che merita assolutamente questo riconoscimento. Come voi sapete questo è il sesto anno che Bocchetta sceglie una persona che ha ben meritato per Verona e credo che sia una delle scelte migliori che Bocchetta abbia fatto. Io vorrei dire alcune cose, però per evitare banalità o retorica io parlerò con le parole di Giulio Galetto. Giulio Galetto ha fatto un meraviglioso ricordo sull'arena dell'11, mi pare di venerdì scorso, di Paola Azzolini. Io non riuscirei a dire minimamente le cose belle o con la stessa forma, con lo stesso stile con cui si è espresso Giulio Galetto. Per chi dei libri di Paola Azzolini ha scritto più volte, in una lunga striscia di tempo su questo giornale, per chi ha avvertito in quei libri, in quei saggi critici, in quei commenti in margine a testi letterari, immancabili sintonie col proprio gusto, per chi stenta a realizzare l'idea che la voce di Paola intenta far vivere per una platea di ascoltatrici e ascoltatori attentissimi, ora debba restare solo come memoria, non più come attesa di un prossimo appuntamento, non è facile dire parole per lei che ci ha lasciato, non è facile usare verbi al tempo passato. Forse la cosa più immediata che ci viene da dire in questa inattesa, amara prospettiva del ricordare è che nella dimensione culturale di Paola convivevano felicemente, da un lato, l'approccio critico ai testi letterari, sostenuto dalla completezza e serietà dello studio e dall'altro l'agile, accattivante eleganza di un'esposizione che liberava anche le tematiche più impegnative dal peso dell'erudizione astratta, proponendole, magari in un articolo di giornale, con una leggibilità nella quale convivevano profondità e ammiccante coinvolgimento. Credo che sia stata definita la Paola per un verso e la sua attività e il suo impegno nella cultura, non solo veronese, nella cultura italiana. Io ricordo, ho un ricordo, io Paola l'ho conosciuta ai tempi del liceo, abbiamo un anno di differenza, io non ricordo se anche lei, mi pare che fosse anche lei nella mia stessa sezione, la sezione A, e ci siamo sempre visti. Poi è nato un rapporto di amicizia con Gidi, Gidi il marito Bruno Predicatori, che io ho conosciuto, pensate, nel 1964, quando ho cominciato la professione, lui era cancelliere a Tribunale di Verona nel penale. Poi quando è andato in pensione ha fatto il concorso per diventare giudice di pace ed è diventato il capo dei giudici di pace. Persona squisita, c'è stato sempre fra loro un rapporto straordinario, dove c'era la Paola c'era il Gidi, dove c'era il Gidi c'era la Paola, io credo di averli mai visti separati. Un rapporto straordinario. Io ho un ricordo della Paola, che è l'ultima cosa che voglio dire, di moltissimi anni fa. Alla biblioteca civica, prima della ristrutturazione, c'era una sala al secondo piano, abbastanza grande, dove venivano tenute conferenze, dibattiti. E un giorno, io un giorno sapevo che lei faceva un'introduzione ai Promessi Sposi. Lei ha amato moltissimo Manzoni, su Manzoni ha fatto la tesi, su Manzoni ha fatto, se non ricordo male, ha fatto anche il dottorato di italianistica e lei introduceva i Promessi Sposi. Io ero andato solo per salutarla. Poi mi sono fermato un momento e non sono riuscito a non sedermi. Ha fatto una lezione strepitosa, io dico, perché non l'ho avuta come insegnante? Perché noi, diciamo, tutti abbiamo un po' sofferto i Promessi Sposi studiati in quinta ginnagio, quindi 15 anni io li avrei portati ai 18, perché è un libro meraviglioso, il più bel libro della lingua italiana che io abbia letto nella mia vita. L'ho letto da adulto, perché mia figlia aveva i miei stessi problemi al liceo, papà, papà, devo portare l'assalto ai forni, che rottura, che rottura, io gliel'ho letto e mi sembrava di essere al cinema, di vedere tutta questa scena delle persone che avanzavano fino al vecchio malvissuto in prima linea. E ho riletto i Promessi Sposi a 40-45 anni ed è stata una straordinaria scoperta. La Paola ci ha dato molto sui Promessi Sposi. Ecco, sono rimasto lì e alla fine con la mia solita spudolatezza, quando lei ha finito di parlare, sono andato al microfono, io non c'entravo niente, non ero neanche uno che partecipasse a quegli incontri sui Promessi Sposi in particolare. Ed ho detto tutto quello che pensavano, mi hai dato una gioia, un'allegria, una felicità con questo tuo intervento, perché la Paola aveva, come scrive giustamente Giulio Galetto, anche questa capacità straordinaria è nello scritto, è nella parola di conquistare, non era mai retorica, era sempre diretta, qualunque intervento suo meritava di essere ascoltato da chiunque, perché veramente aveva questo dono straordinario della comunicazione. Ecco, quindi io concludo dicendo che questa morte imprevista, imprevedibile, è stata, credo, un dolore, un colpo per tutti. Mi ha telefonato la cognata, anzi ha telefonato mia moglie alle 8 del mattino del giorno dopo, dicendo era una cosa quasi incredibile, no? Che se ne fosse andata così, così in fretta, senza nessun tipo di preparazione. Per carità, per chi muore, probabilmente è meglio morire in questo modo, ma per chi rimane, io ricordo di mio padre che è morto nello stesso modo per fare un infarto. Dico, gli avremmo detto, io ce l'ho con lui, gli ho detto, perché non ci ha dato una settimana per prepararci noi la tua partita? Sei morto di notte, li abbiamo trovato per terra, caduto per terra. La paola lascia, purtroppo, come dice Giulio Galetto, ha dato un ricordo, ma un ricordo straordinario in tutti noi. Adesso io non ho altro da dire, l'ho detto anche troppo, mi pare che Daniela Brunelli voglia ricordarla, è stata un importante personaggio della società letteraria, è stata all'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere, membro effettivo, mi ricordo. Mi sono dimenticata che quando abbiamo modificato parzialmente la locandina, sono anche nella sede, socia effettiva, allora io faccio una ricerca, no, si chiama membro effettivo, ah si hai ragione, e abbiamo aggiunto che questo membro effettivo straordinario. Ha svolto attività, l'università degli anziani, le varie università degli anziani nella quale lei andava a tenere le sue lezioni, i suoi corsi, erano frequentatissime, il circo dei lettori, hanno mandato un comunicato dicendo purtroppo non possiamo, era un luogo dove riempivano per quanto fosse possibile nel piccolo spazio che avevano, quando c'era la Paola Zolini ci andavano in tantissimi, ci scrivevano in tantissimi, quindi è stato un personaggio che ha espresso cultura a tutti i livelli a 360 gradi e per Verona secondo me è una grossa perda. Grazie. Applausi. Buongiorno a tutte e a tutti. è per me molto difficile ricordare Paola pensando che adesso usciamo e lei non c'è, sto pensando che se lei fosse qui avrebbe iniziato a parlarci dicendoci cari amici o cari amiche, se vi ricordate era un suo intercalare tipico che usava in questa sua capacità magnifica che tu hai ricordato leggendo l'articolo di Galetto, questa sua capacità magnifica di portarci i grandi della letteratura ad un livello di accessibilità come se fossero nostri amici, cioè quelli lì che stanno sul nostro comodino e con i quali possiamo continuare a leggere, a interloquire, a imparare anche a distanza di secoli, a distanza di generazioni. lei aveva questa capacità straordinaria e io vorrei subito dire che sono, non lo so, ci sono tantissimi pensieri che in questi giorni mi sovrastano e si affastellano nella mia mente. nella società letteraria Paola era dal 1980 e è l'anno in cui anch'io mi iscrissi, io sono un po' più giovane di lei, ma abbiamo fatto un percorso sempre vicino. Mi piace dirlo ai suoi nipoti che sono qui, Pietro e Anna, che sono i primi nipoti che lei ha avuto, sono i figli della figlia Francesca e poi sono arrivate Margherita e Emma di Giovanni e di Chiara, che sono qui in prima fila e le due più piccole nipoti non sono con noi oggi perché sono state male questa notte, poverine. è una lunga vita che abbiamo condiviso e abbiamo condiviso in uno spirito veramente che posso definire di sorellanza, perché i lavori fatti insieme in società letteraria piano piano ci hanno portate ad un'assiduità quotidiana, quindi voi potete immaginare che cosa significa perdere un'amica che senti tutti i giorni. E quando, magari perché io ero molto impegnata, lei ripetutamente mi chiamava nella giornata perché diceva Paola adesso non posso e allora ti richiamo dopo, poi a un certo punto mi diceva cambiando tono, cara amica, devi un po' dire dei no, perché se no non ci possiamo mai sentire. Era veramente, è magnifica e quando quella mattina alle 5 la signora Tatiana che è qui con noi e che le ha veramente fatto tantissima compagnia, vero, era una persona che aveva incontrato dopo quel maledetto ossicino che si chiama Piatto Tibiale, che ho scoperto che abbiamo un ossicino grande così che si chiama Piatto Tibiale e che se si rompe ci mette sulla sedia a rotelle per un po' di tempo finché non sia giusto. La signora Tatiana è stata una preziosa compagnia per Paola, un prezioso aiuto in casa in questi mesi ed erano, siamo state, sono stata con alcuni amici a cena la settimana l'altra e Tatiana ha cenato naturalmente con noi e si capiva anche da questo di come il tratto umano di Paola fosse di una caratura diversa, potete capirmi a che cosa alludo. Sapeva veramente accostarsi nello stesso modo, con la stessa umanità e la stessa profondità alle persone più diverse, anche a quelle incontrate improvvisamente sul suo cammino e non previste. Anche il babbo di Paola era non solo socio della società letteraria, è stato anche vicepresidente della società letteraria negli anni Sessanta. Questo per dirvi del legame fortissimo che Paola aveva per questa istituzione e di quanto ha voluto anche restituire nella progettualità che lei ha avuto. E rispetto alla progettualità ci sono tantissimi progetti aperti, aperti, sui quali stavamo lavorando insieme. Vedo Federico Gianello nell'ambito musicale, letterario musicale, a lei piaceva tanto unire i saperi, era una vera intellettuale nel senso compiuto del termine. Lei metteva insieme i saperi, la letteratura con la musica, la letteratura con l'arte, la musica con l'arte e sapeva creare armonia fra i saperi, cosa che purtroppo i nostri tempi hanno un po' perduto. In questa iper specializzazione in cui ci siamo incanalati abbiamo anche perduto un po' queste capacità. Tutto questo per dirvi che Paola è pienamente meritevole di questo dono, di questo premio, Vittore, perché Paola come te, come Giulio Segato che mi piace nominare in questa sede che era un altro nostro caro socio, è stata una testimone che ci lascia in eredità, una testimone dei valori civili e democratici in cui noi crediamo e che lei ci ha trasmesso tramite la letteratura che ha amato e tutte le arti che lei ha amato e oggi ce ne lascia in eredità. Siete persone preziose e che in questa occasione, come dire, in un unico abbraccio ci donate questo. Io non credo di poter dire altro in questo momento, veramente vi ringrazio tanto per essere anche così tanti insieme qui dentro. Grazie. Allora, Vittore non vuole dire niente, non vuole aggiungere nulla, dice do con le mani. Allora, noi consegniamo ai figli, ai carissimi figli di Paola, il premio Vittore Bocchetta che come vedete consiste in una maschera di... ma funebre, per poco di dire, perché l'ante lo sarebbe, ma su creazione anche di fantasia. Allora, il premio Vittore Bocchetta con questa... Questa è una... una cosa un po' artigianale, questa... che ha fatto stamattina la mia segretaria però è venuta, direi che è venuta bene. Il premio Vittore Bocchetta 2016 è stato assegnato a Paola Zolini che con la sua passione per l'insegnamento, la sua cultura, i suoi scritti, il suo carisma comunicativo e tutta la sua vita ha onorato Verona e le sue istituzioni. Ha fatto amare Dante e Manzoni a molte generazioni di studenti. Ha entusiasmato con la sua parola chi l'ascoltava alla società letteraria, al cerco dei lettori, alle università del tempo libero ed è stata apprezzata e amata da tutte le persone che hanno avuto la fortuna di entrare in contatto con lei. Applausi. Applausi. Io l'avevo dovuto essere qui, sicuramente, sicuramente questo... Francesca, e l'avevano invitata? Eh, l'avevate invitata! Io devo dire che io credo che mia madre ci abbia fatto un ultimo grande dono. Nell'andare via così improvvisamente ci ha lasciato un grandissimo vuoto ma ci permette anche di ricordarla così com'è. Perché purtroppo la malattia troppo spesso distrugge non solo i corpi ma anche i ricordi che abbiamo delle persone. Invece qua possiamo ricordarcela fino all'ultimo mentre mandava una mail, mi ha mandato la mail della locandina. Mi ha mandato la mail della locandina e l'ho ricevuto da quello dopo. Insomma, possiamo ricordarla vitale, appassionata, è l'attività giusto, ma anche seria, impegnata ed esigente, perché era esigente con se stessa e anche con gli altri, giustamente, seria. Grazie ancora. Grazie. Grazie.